Dal 28 novembre all'1 dicembre la città di Mantova ha ospitato il primo forum mondiale sulle foreste urbane promosso dalla FAO organizzato dal comune di Mantova, dal Politecnico di Milano e da Sisef. Oltre 400 esperti si sono riuniti da più di 50 paesi per discutere dell'importanza di integrare le infrastrutture verdi alle infrastrutture grigie delle città. Uno dei più importanti convegni è stato quello promosso da Assofloro Lombardia e Coldiretti Lombardia intitolato Alberi di qualità per le città del futuro, la produzione vivaistica tra mercato, regole e cambiamenti climatici durante il quale proprio Assofloro, nella figura della sua presidente, ha portato alcune richieste sottolineando quanto siano importanti la qualità e la professionalità di chi opera nel settore. Questa giornata così importante del forum mondiale della forestazione urbana siamo a chiedere che è necessario un verde di qualità affinché l'albero e il verde in generale svolga appieno il suo valore ecosistemico solo un verde di qualità, un verde curato e progettato da professionisti può effettivamente svolgere questo grande valore ecosistemico altrimenti ha e avrà come ha avuto fino a poco tempo fa puramente un valore ornamentale e spesso e volentieri neanche quello riesce ad avere perché basti vedere lungo i viali come spesso e volentieri vengono trattati gli alberi dovuto anche ad una magari non sempre politica corretta di affidamento dei lavori a professionisti. Un settore, quello florovivaistico, che rimane tra i migliori secondo Coldiretti e che proprio per le città del futuro riveste una grande importanza Diciamo che sicuramente il comparto florovivaistico rimane una delle nostre grandi eccellenze si può fare tantissimo per quanto riguarda gli aspetti di carattere ambientale e creando le condizioni perché ci sia una migliore qualità della vita sui nostri territori e il verde, ripeto, sotto questo punto di vista può fare e raccontare molto utilizzando sempre più piante autoctone, utilizzando sempre più condizioni caratteristiche per le quali ci sia una valorizzazione del territorio valorizzando anche alcune filiere produttive come quella del legno. Al convegno era presente anche l'assessore di Regione Lombardia Fabio Rolfi che ha delineato la strada da seguire per le città del futuro e le scelte che la Regione metterà in campo. Innanzitutto noi condividiamo l'analisi del fatto che il verde è di qualità, di quantità anche nelle città, nelle aree urbane, in una regione dove l'80% della gente abita e abiterà sempre più in ambiti urbani, è elemento di qualità della vita della città è elemento di fruibilità, ne aumenta la fruibilità che aiuta a contrastare anche alcune problematiche urbane pensiamo alla sicurezza urbana, pensiamo anche al degrado urbano al recupero degli spazi exurbanizzati insomma migliora la relazione di vita della città quindi va incrementato con due azioni la prima vogliamo aiutare i comuni a essere protagonisti di ciò che la legge oggi consente ossia gara d'appalto costruita su criteri qualitativi non soltanto sul massimo ribasso questo per consentire di avere forniture di verde e anche di modelli gestionali più corrispondenti alla qualità perché purtroppo spesso il massimo ribasso favorisce un verde di scassa qualità e modelli di gestione che non sono progetti alla qualità, alla professionalità con po' le repercussioni che vediamo ad esempio un numero significativo di alberi che cadono durante temporali anche non violenti con problematiche anche di sicurezza e spese che aumentano per i comuni e la seconda considerazione è agire con un fondo che metteremo in finanziaria regionale già quest'anno per l'anno prossimo verso la creazione di boschi di città cioè aiutare quei comuni che vogliono investire nel recupero di aree urbane nell'aumentare in maniera significativa ettari, metri quadrati di area pubblica destinati a boschi urbani per aumentare il verde, per aumentare la produzione di ossigeno per contrastare l'inquinamento e per rendere più belle le nostre città grazie a tutti grazie a tutti